ciao a tutti oggi prepareremo la pizza ai sette cereali il tempo di preparazione della ricetta è di quattro ore circa ingredienti sono farina ai sette cereali lievito di birra fresco zucchero acqua sale olio extravergine di oliva salsa di pomodoro condita con olio sale pepe origano e mozzarella andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il lievito l'acqua e lo zucchero e azioniamo il bimbi per due minuti 37 gradi velocità 3 aggiungere la farina ai sette cereali l'olio e il sale se ne ha il bimbi in modalità spiega per 5 minuti l'impasto è pronto trasferire in una ciotola unta con olio coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per due ore trascorsi il tempo abbiamo ripreso l'impasto che ben lievitato dividiamolo in due parti uguali e posizioniamo in una parte in una teglia per pizza rivestita con carta da forno con le mani unte con olio stendiamo l'impasto aggiungere la salsa di pomodoro che abbiamo precedentemente condito con olio sale pepe e origano cuocere in forno per riscaldato statica a 200 gradi per 12 minuti nella parte bassa del forno al termine riprendere la pizza per aggiungere la mozzarella abbiamo ripreso la pizza dal forno che è ancora calda adesso aggiungeremo la mozzarella e proseguiamo la cottura sempre in forno preriscaldato statica a 200 gradi per 10 minuti nella parte alta del forno la pizza è cotta irrorare con un filo d'olio e servire pizza e 7 cereali grazie e alla prossima ricetta ciao